34 casi di covid nel piccolo comune dell'Alta Padovana di San Pietro in Gula. Metà sono stati rilevati nel centro di accoglienza straordinaria. Altre 9 persone sono in isolamento domiciliare perché stretti i contatti compositivi. La comunicazione è stata data dal sindaco Paolo Polati attraverso la pagina Facebook del comune. Un avviso scritto anche in inglese e francese per raggiungere tutta la popolazione, compresi gli ospiti stranieri del centro di accoglienza che si trova nell'ex hotel Cabianca. La situazione all'interno della struttura di accoglienza specifica. Il sindaco è sotto controllo e il primo cittadino inoltre ha in costante contatto con la prefettura e con il servizio di igiene e sanità pubblica dell'USL6 che ha avviato tutte le procedure per fermare la possibile diffusione del virus. Il sindaco nel suo messaggio ha esortato i concittadini che non sono ancora stati vaccinati e che non presentano alcuna contraindicazione alla vaccinazione a farlo quanto prima.